Roberto, quali sono i chitarristi che hanno influenzato di più il tuo percorso di chitarrista? Ci sono tanti, dagli anni 70 fino ad oggi, potrei fare mattina a dire tanti nomi. Steve Hall, chitarrista degli esseri che ho ascoltato da 13 anni, sicuramente quello che più mi ha formato. Un chitarrista, un ricordo che suonava di tutto, un mandolino, un guitar, un guitar, Ian Crichton, The Saga, gruppo progressive canadese, anche loro. Bravissimi, e lui è un genio. Il terzo genio è secondo me Trevor Rabbit, il chitarrista di Yes, anche della seconda formazione, arrangiatore, grandissimo cantante anche. Loro sono quelli che sicuramente io ho nel cuore, sulla pelle, e credo che porterò sempre con me. E tanti altri poi, credo, ci sono da menzionare, ma non è il caso, non facciamo mattina. Grande! Ciao, grazie! Grazie, ciao!